Non esiste il concetto povero, disonesto o ladro, piuttosto che ricco e onesto e per bene, non è così. Qui si parla di rispetto delle regole. Sanz, facciamo i bravi, su. Qui stiamo parlando di gente che non si sente sicura. Quando senti prima il cittadino di Conegliano del paese in Veneto dove era al servizio... Si dice si fanno bene, alzassero i muri, ma hanno preso tutto, meglio la pistola. Allora, a fronte di questo, la questione da porsi è perché ci sono i ladri in circolazione e la gente non si sente sicura. È una questione di sicurezza o è una questione di rispetto alle regole? Che tornando al discorso di prima, dico anche a Fusani, abbiamo approvato tempo fa, poco tempo fa, una legge sul caporalato. Gli strumenti ci sono, bisogna però farli funzionare. E chiudo il ragionamento di prima. Se però non si dice a chi viene da questa parte che non c'è spazio, che non c'è soluzione di lavoro... È lì che sbagliate, Candiani. Però posso continuare a sbagliare dicendo il ragionamento? Se non si dice chiaramente che non c'è spazio per tutti e che in questo paese non c'è il ben godi per chiunque ci venga, poi si autorizzano situazioni di baraccopoli come quelle che abbiamo visto. E quando uno è qui, non è che perché qui dopo non c'è più soluzione perché non sai come mandarlo indietro. Devi chiarire subito dall'origine chi può venire e chi non può venire. Ci siamo trovati ieri, ci troviamo come ieri il Tar della Liguria che dice di no al dignego di un rinnovo di permesso di soggiorno alla questura perché dall'altra parte pur condannato per droghe eccetera eccetera ci sono dei rapporti familiari tra lo straniero e i suoi congiunti. Cioè questo è un paese che le regole le sta facendo a straccio. E non va bene. E no perché non c'è più una regola.